Non sembrano proprio esserci spiragli. Il PD a poche ore dall'inizio dei lavori della Giunta sull'immunità che si riunirà a lunedì lascia chiusa la porta a Berlusconi sulla decadenza. La legge è uguale per tutti, taglia corto il Presidente del Senato Grasso. Non faremo passi indietro, rincara la dose il Vice Ministro Fassina. È Berlusconi che dovrebbe fare un passo indietro in calza d'alema dalla festa democratica di Genova, ritenendo comunque inevitabile la sua estromissione dall'aula di Palazzo Madama. Vorrei rassicurarlo, aggiunge, si può fare politica anche fuori dal Parlamento, mentre esclude che Berlusconi farà cadere il governo per ritorsione. Nessuna via d'uscita neanche sull'ipotesi di un ricorso alla consulta, come precisa ad Omnibus questa mattina Fioroni. Non possiamo creare precedenti o assumere e chiedere che la Giunta diventi ciò che non è, perché siccome non siamo eterni e dobbiamo avere rispetto delle istituzioni, non possiamo pensare di piegare all'utilità e all'attimo fuggente la sacralità dello Stato che è e deve restare terzo, perché se viene meno anche questo il nostro diventa la Repubblica delle Banane. Ma è Matteo Renzi che, mentre volano i sondaggi, sfrutta la vicenda di Berlusconi ricorrendo ad un giro di parole per tornare a chiedere la convocazione del Congresso. Non si può pretendere che Berlusconi rispetti le sentenze se noi per primi non rispettiamo le scadenze. Renzi dunque sempre più in prima linea, anche se avverte chi vorrebbe salire sul suo carro. L'unico carro che conosco è quello del Brindellone che scoppia davanti al Duomo di Firenze a Pasqua, quindi chi vuole salire deve stare attento. Ma a prendere le distanze dal rottamatore è Massimo D'Alema. Renzi non ha idea di cosa vuol dire fare il segretario e il sindaco insieme. Non doveva candidarsi alla segreteria quando il suo vero obiettivo è correre per Palazzo Chigi. Rivoluzionario lui neanche per idea, aggiunge D'Alema. La nomenclatura è con lui perché non può perdere il Congresso. Anche Letta, profetizza D'Alema, si schiererà con lui. D'Alema invece sostiene Cuperlo alla segreteria e Cuperlo per parte sua dalle colonne di Repubblica precisa. Dicono che sono coraggioso ma che non buco il video, ma la mia angoscia è che da tempo non buchiamo le coscienze e pensiamo che basti il video a salvarci. Basta con un partito fatto solo di dirigenti, aggiunge Cuperlo, voglio un PD che sia forza popolare.